Anche tu fai slalom tra le persone? Sono al supermercato sotto casa, stanca, spettinata e con il trucco ormai rovinato dalla frenesia della giornata. Prendo la mascherina, afferro il carrello, faccio slalom tra le persone. Cerco di fare mente locale su cosa mi serve. Latte, uova, pasta, farina, ecco, questo è il mio reparto. Latte, no. Non questo marchio perché il salvagente ha scoperto che contiene antibiotici. E questa pasta? No, fa malissimo. Prendo quest'altra, che pare sia più salutare. Accidenti, non ricordo quale olio ha superato i test di laboratorio del salvagente. Prendo lo smartphone, cerco nel mio archivio digitale l'inchiesta sugli oli. Ah, ecco, quest'olio è buono e fa bene, quest'altro invece, molto meno, l'ho scampata grossa. Torno a casa e sono ancora stanca, ma serena e consapevole. Consapevole di poter mettere in tavola cibi buoni e sicuri. Guardo mio figlio e penso che è una fortuna in questa società, dove tutti compriamo i prodotti con il marketing migliore, avere un giornale che ci dice anche qual è il prodotto migliore, indipendentemente dal marketing. Lo so, è dura essere abbonato al salvagente. Potresti impiegare addirittura tre o quattro minuti in più quando fai la spesa al supermercato. Giusto il tempo per selezionare solo i prodotti migliori, scelti da noi e che hanno superato i nostri difficilissimi test di laboratorio. Se vuoi avere anche tu una vita dura e leggere ogni mese le inchieste e i risultati dei nostri test di laboratorio su decine di prodotti, scopri i nostri piani di abbonamento cliccando sul video. Grazie. 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 Grazie.